Rossella, si tratta di un passo indietro, può trattarsi di uno scivolo in una partita importante nel contesto del campionato del Verona? Cosa è successo in campo? Cosa vi è mancato? Sicuramente a mio avviso è mancata un po' di determinazione, di voglia di arrivare prima sulla palla, un po' di personalità perché certe partite che sono degli scontri diretti per la salvezza bisogna sicuramente affrontarle con un po' più di grinta in più, cosa che l'Empoli ha avuto rispetto a noi oggi. Avete fatto anche fatica, parecchia fatica a centrocampo, in costruzione, nell'impostazione di gioco, c'era del pressing a parte dell'Empoli, ma il Verona ha fatto fatica a costruire oggettivamente? Sì, abbiamo fatto fatica perché loro pressavano alte, avremmo potuto farlo anche noi per mettere in difficoltà loro, ma sì, eravamo un po' spente, un po' prive di idee e questo si è visto, purtroppo. Adesso a livello di gruppo c'è da risettare, da ripartire da zero per preparare una partita importante come quella contro la Fiorentina? Sicuramente sì, ci dobbiamo fare un esame di coscienza, e tornare a lavorare al meglio possibile perché ci può stare perdere se l'avversario merita, però non perde i meriti nostri. La partita va sempre giocata al massimo e poi dopo, una volta che te la giochi, tiri le somme. Ecco, quindi dovremo lavorare sicuramente con una mentalità diversa perché a mio avviso possiamo mettere in difficoltà molte squadre se abbiamo la testa giusta. E quindi speriamo con la Fiorentina, insomma, di rialzarla la testa.